Il nostro corpo ha bisogno di specifici nutrienti per vivere una vita sana e attiva. Quando non riceviamo le giuste quantità di questi nutrienti, ci sentiamo spenti, stanchi, poco vitali. Siamo anche più vulnerabili agli attacchi che ricevono le nostre cellule, come ad esempio quelli dei radicali liberi e delle tossine ambientali, e il risultato è spaventoso, scarso benessere. È impensabile, perché noi conosciamo la soluzione. Le autorità in materia di salute concordano che la chiave per la promozione del benessere è il controllo del peso, l'attività fisica e un'alimentazione ricca di alimenti integrali contenuti in cereali, frutta e verdura e di pesce ricco di Omega 3. Ma se sei come la maggior parte di noi, è difficile mangiare sempre correttamente. Deve esserci un modo semplice, efficace ed economico per colmare la lacuna tra alimentazione e nutrizione. E c'è! In Neolife, la nostra missione è rendere il mondo un luogo più sano e più felice, aiutando le persone a scegliere una sana alimentazione a partire da te. I prodotti nutrizionali di qualità superiore della Neolife seguono il progetto della natura perché utilizzano i più genuini ingredienti derivati da cibi integrali, prodotti basati sulla natura e supportati dalla scienza. Ciascun prodotto Neolife è approvato dal Comitato di Consulenza Scientifica, un network internazionale di medici, ricercatori ed esperti di nutrizione. Neolife è pioniera nel campo dell'integrazione alimentare, in attività del 1958 in più di 50 paesi del mondo, con centri di ricerca all'avanguardia, partnership strategiche con le più stimate organizzazioni scientifiche e pubblicazioni nelle più importanti riviste scientifiche di tutto il mondo. Dalla nutrizione di base a soluzioni mirate per supportare il cuore, per proteggere dallo stress ossidativo, per l'alimentazione dei bambini, per l'equilibrio interno e le ossa, solo per nominarne alcuni, Neolife ha la risposta. Ma Neolife non è solamente un'azienda, è una famiglia di persone come te e me che hanno deciso di assumere il controllo del proprio benessere. Provare i benefici di una nutrizione di qualità non è mai stato così semplice. Come distributor Neolife puoi ottenere prodotti esclusivi a prezzi scontati, nutrizione e sviluppo personale, partecipazione a eventi divertenti e community, formazione e riconoscimenti e in ultimo, ma non per importanza, guadagni extra, part-time o full-time. Siamo impegnati a porre fine allo scarso benessere, ma non possiamo farlo da soli. Stiamo cercando persone che desiderano aiutare gli altri ad appassionarsi alla corretta alimentazione. Come si fa? Ma in poche parole funziona come una start-up tecnologica, ma legata all'alimentazione. Ci sono pochi ostacoli per entrare a farne parte, perché noi forniamo le infrastrutture che servono a qualsiasi tipo di business. Forniamo anche i prodotti e un piano compensi. Invece di dover investire centinaia di migliaia di euro per iniziare, rendiamo l'attività imprenditoriale accessibile a tutti. È la tua attività, alle tue condizioni, che può anche essere lasciata in eredità alle generazioni future. È un'opportunità unica. Neolife sta ridisegnando il mondo delle start-up e si prevede che quella della salute e del benessere sarà la prossima industria da trilioni di euro. Chi ti ha presentato Neolife lo ha fatto per chi si preoccupa per te e ha a cuore la tua salute, e allora non trascurare nessuno. Telefona ad un amico e raccontagli cosa pensi. Se vuoi provare prodotti straordinari, diventa un cliente o un member Neolife. Se vuoi aiutarci a porre fine allo scarso benessere, diventa distributor Neolife. Siamo entusiasti di essere i primi a dirti benvenuto in famiglia.